Ciao, oggi inizia Adobe Max 2024 e come ogni anno cercherò di seguire tutti i keynote e i video per potervi aggiornare al meglio. Venerdì alle ore 18 insieme a Massimo Nava e Marco Lombardo faremo una live in diretta sui nostri canali di YouTube, quindi non serve nessun link perché basta collegarsi ai nostri canali di YouTube e semplicemente potrete vedere tutto quello che abbiamo scoperto in questa sessione e tenervi aggiornati al meglio. Quindi vi aspetto, segnati in agenda venerdì 18 ottobre alle ore 18. Vi aspetto per vedere tutte le novità insieme a loro. Grazie, ciao, buona settimana! Ah, dimenticavo, hanno già aggiornato le versioni 2025 se volete già fare qualche prova e installarle. Io ci sto già provando adesso, quindi vado subito a vedere cosa c'è di nuovo. Ciao, ciao!